Un cordiale buonasera a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione, l'edizione flash del sabato di occhio alla notizia. Cominciamo dalla cronaca, perché a San Costanzo e a Trecastelli di Ancona sono stati fatti esplodere due bancomat a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. È stata una notte dunque di paura, quella trascorsa venerdì per molti abitanti di questi due paesi poco distanti tra loro. Due bande organizzate hanno fatto saltare in aria altrettanti bancomat causando potenti deflagrazioni. Il primo poco dopo le tre di notte sulla strada principale di San Costanzo ad agire in pochissimi minuti. Sono state due persone con accento straniero che dopo aver provocato una potente esplosione con il gas e distrutto la sede della filiale della banca dell'Adriatico sono poi scappati a bordo di un'auto di colore scuro parcheggiata a poca distanza. A dare l'allarme una famiglia che abita al primo piano svegliata di soprassalto dal fragore dell'esplosione. La donna che per prima si è affacciata sul balcone è stata anche minacciata verbalmente con parole incomprensibili da uno dei malviventi. Poi i due si sono dileguati nella notte con il bottino di circa 35 mila euro. Il secondo colpo invece pochi minuti dopo in un altro istituto di credito a qualche chilometro più a sud di San Costanzo in località Ponterio di Trecastelli di Ancona. Anche in questa circostanza ad agire sono state probabilmente due persone. Ad accorgersi di loro è stato un anziano che abita al piano di sopra della filiale della UbiBank a Popolare di Ancona. L'uomo ha raccontato di aver sentito lavorare di sotto con degli arnesi così si è affacciato sul pianerottolo delle scale per cercare di capire che cosa stesse succedendo. Poi ogni dubbio gli è svanito quando ha sentito chiaramente i due parlare tra loro e uno diceva fai presto fai presto. Il pensionato ha chiamato così il 112 ma mentre era al telefono con il centralinista dell'arma ha sentito l'esplosione. Il resto è tutto immaginabile, la corsa contro il tempo per arraffare il denaro circa 20 mila euro e poi la fuga per non essere catturati e identificati. Insomma pesante anche in questo caso il bilancio dei danni dove come dicevamo in entrambi i casi sono ingentissimi. Da sottolineare la curiosità, spesso questo tipo di azione viene messa a segno il venerdì quando i Bancomat vengono caricati di soldi per il fine settimana. E sarà un fine settimana di maltempo con la neve prevista dalla costa a tutto l'entroterra. Domenica infatti è previsto un diffuso peggioramento del tempo nel corso della tarda mattinata. Primo pomeriggio con rovesci nevosi praticamente anche in pianura e lungo la costa che dal litorale si muoveranno velocemente verso le aree interne. I settori maggiormente interessati dalle nevicate con maggiori accumuli e a tratti anche oltre i 10 centimetri risulteranno le aree collinari centro orientali, praticamente dai 5 ai 30 chilometri dalla costa. Ma anche le aree litorane potranno vedere localmente accumuli di qualche centimetro specie sul basso pesarese nel corso della serata e della nottata. Mentre già dalla sera di ieri e nelle prime ore di sabato mattina e di questa mattina il personale della provincia di Pesolurbino è stato impegnato in trattamenti antigelo lungo le arterie di potenziale criticità. Al lavoro mezzi spargisale lungo varie strade provinciali. Alle 5 del mattino si è intervenuti sulla Mombaroccese, nelle zone di Novilare e Candelara dove una nevicata ha reso necessario l'immediato intervento antigelo mentre altri trattamenti per ghiaccio e leggera neve sono stati fatti in particolare sulla strada provinciale Urbinate-Feltresca, sulla Monte Calvo in Foglia e sulla parte alta della Valcesano, oltre a tratti della provinciale Pian di Trebbio e Pietralunga nella zona del Nerone. E adesso apriamo la pagina politica, in particolare parliamo della sanità perché a poche ore dal Consiglio monotematico che si terrà lunedì prossimo a Fano nel quale parteciperà anche il Presidente della Regione Luca Ceriscioli oggi alcuni consiglieri dell'opposizione hanno detto che voteranno a favore del documento preparato dal Sindaco Massimo Seri che presenterà poi al Presidente Ceriscioli appunto lunedì nel corso del Consiglio Comunale. Questo documento parla di rivedere l'integrazione che non è stata fatta come doveva essere fatta soprattutto negli ultimi anni e negli ultimi mesi affronta il tema di chirurgia H24 da salvaguardare per l'ospedale di Fano e affronta il tema dell'investimento sul reparto di materno infantile quindi la salvaguardia del nostro punto nascite di Fano per il quale dal 2 di gennaio dopo aver avuto notizie contrastanti ci siamo subito mossi e attivati. Io credo che questo sia il momento di dare una grande risposta come città al Presidente della Regione e a tutta l'amministrazione regionale far vedere che questa città è unita per difendere il proprio ospedale e anche capace di tornare indietro sul progetto Marche Nord che comunque aveva salvato il nostro ospedale nel 2012 perché se l'integrazione che doveva portare ad un'unica struttura non è stata fatta come è stata fatta in questi anni e non potrà essere fatta nei prossimi mesi chiediamo che i due ospedali, quelli di Fano e di Pesaro continuino a funzionare e a dare servizi ai cittadini. Pertanto lunedì chi si tirerà indietro rispetto alla volontà di essere uniti e unanimi come Consiglio Comunale, come città nei confronti della Regione e del Governo regionale per far valere le nostre posizioni dimostrerà di non avere responsabilità, soprattutto responsabilità di Governo e quindi come fanno i grillini vorrà solo speculare politicamente su questo argomento per trarne vantaggi poi elettorali i prossimi anni. Noi non vogliamo questo, non si può fare campagna elettorale e politica sulla salute dei cittadini, vogliamo risolvere i problemi e per questo che offriamo la nostra disponibilità e la nostra responsabilità per risolvere i problemi. Ed ora il Palazzetto dello Sport, dopo i lavori di bonifica dell'Amianto oggi riaprirà, lo farà con un quadrangolare di volley al quale parteciperanno quattro squadre quattro squadre anche se vogliamo originali questa mattina il sindaco Massimo Seri ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Con la riapertura del Palazzetto dello Sport concludiamo tutto il processo di bonifica dell'Amianto di tutto il patrimonio pubblico nella città di Fano è l'unica città nelle Marche e una delle poche in Italia che ha fatto un'operazione di questo tipo un'operazione straordinaria che significa un'operazione a tutela della salute dei cittadini e di tutti coloro che frequentano questi luoghi ma vorrei ricordare un dato quante tonnellate di amianto sono state portate via da questa città soltanto nel Palazzetto dello Sport 10 tonnellate complessivamente dovremmo essere intorno ai 160 tonnellate di amianto in tutta la città voi capite che impatto che ha un'operazione di questa ha un valore ambientale ma soprattutto invece di rincorrere i problemi li abbiamo anticipato questo è anche un lavoro di prevenzione e soprattutto abbiamo ridato anche a disposizione dei nostri sportivi nel caso del Palazzetto dello Sport una struttura efficiente, riqualificata e messa in sicurezza su tutti gli aspetti veramente una grande soddisfazione un grande risultato ed è la giusta risposta che i cittadini meritano e quindi come sindaco e come amministrazione e parlo anche degli assessori interessati è un momento di grande soddisfazione Domani la Chiesa Cattolica festeggia Sant'Antonio Abate e tradizionalmente c'è anche la benedizione degli animali vediamo allora gli appuntamenti più importanti nel nostro territorio e cominciamo da Carignano dove alle 9 di mattina il Vescovo Trasarti celebrerà una messa cui seguirà la tradizionale processione e la benedizione degli animali a Fano invece in Piazza 20 Settembre l'appuntamento alle 10.30 con la dimostrazione e l'esibizione dei gruppi cinofili cui seguirà anche in questo caso la benedizione degli animali a Tavernelle e Serungarina nelle parrocchie alle 10.30 la celebrazione di una messa solenne alle 15.30 quindi nel pomeriggio la preghiera mariana e alle 16 la benedizione degli animali infine chiudiamo come sempre con il calcio l'appuntamento di domani con la Serie D l'Alma Juventus Fano è impegnata a Monte Granaro dove incontrerà la squadra della Folgore Veregra una partita una partita non facile ma che i Granata affronteranno con determinazione naturalmente la seguiremo anche noi ve la riproporremo poi lunedì sera nel corso subito dopo il telegiornale Occhio alla Notizia con la telecronaca di Sergio Catalani il telegiornale finisce qui io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV e vi ricordo che le vostre segnalazioni per noi sono sempre molto importanti e in vista anche di un probabile punto peggioramento del tempo vi chiediamo massima collaborazione i riferimenti e le coordinate per mettersi e mettervi in contatto con la nostra radioazione ormai le conoscete comunque c'è sempre il nostro sito internet tokyolanotizia.it con tutti i riferimenti grazie ancora per averci seguito arrivederci